Musica Griglie del plebiscito, il comune vince al tar, il tribunale conferma le tesi del comune di Napoli, annulla il decreto del ministero, possono ripartire lavori per la nuova linea della metropolitana. Esulta il sindaco De Magistris che dice, lo ripetavamo da tempo che avevamo ragione, salvi finanziamenti europei. Elezioni sfida De Luca De Magistris, lo aspettiamo a braccia aperte, così il governatore sulla possibile candidatura del sindaco di Napoli alle prossime regionali. Il governatore accusa il capoluogo di inefficienze e attacca l'inquilino di Palazzo San Giacomo. Sono come Murigno, se vogliono farsi pubblicità con me devono pagare. Universia di in ritardo, l'allarme di Cantone, il presidente dell'anticorruzione sull'evento sportivo, con il commissario Basile si sta recuperando il gap, ma pesano i ritardi iniziali. Mi auguro, ha aggiunto, che Napoli non faccia brutte figure, ma leggo commenti preoccupanti. Tratta degli schiavi retata nel Salernitano 35, indagati smantellato un'organizzazione criminale italo-marocchina che favoriva lo sfruttamento di immigrati clandestini. Coinvolti nell'indagine imprenditori agricoli della Piana del Sele e un commercialista. Gli stranieri segregati in baracche di lamiera in minacciati. Ricatto a Ard, il vigile si difende. Nessun ricatto, né la pretesa di denaro, la compagna e il suo amante, ripresi con il cellulare. Il maresciallo dei vigili urbani di Piedimonte Matese, davanti al GIP del Tribunale di Benevento, ha respinto le accuse di lesioni, sequestro di persona, violenza e distorsione. Centro autismo, blitz nel cantiere. Stamane ad Avellino la verifica sui lavori in corso con ASL comune e tecnici. Entro maggio la ditta consegnerà il cantiere, ma resta il nodo della gestione. La manager Morgante annuncia, puntiamo su un operatore economico esterno. Buonasera dal TG 696, griglie al plebiscito. Il Tar dà nuovamente ragione al comune. Il Tribunale amministrativo ha annullato il decreto del MIBACT. Possono riprendere i lavori della metro, salvi i fondi europei. Esulta De Magistris. Sentiamo. Lo dicevamo da tempo che avevamo ragione. Riteniamo molto grave quello che è accaduto, perché con una pervicacia senza precedenti è stato messo un ostacolo serio e concreto all'andamento dei lavori, provocando un'interruzione che ci ha fatto perdere molti mesi, causando un danno evidente a Napoli, ai napoletani e alla mobilità. I lavori ora ripartono. Così il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, ha commentato la decisione del Tart Campania che a poco più di un mese ha nuovamente accolto il ricorso dell'amministrazione comunale avverso il decreto del MIBACT, che aveva bloccato i lavori della linea 6 della metropolitana per il posizionamento delle griglie di ventilazione in piazza Plebiscito. De Magistris ha sottolineato che nell'incontro avuto con il ministro Bonisoli alcune settimane fa aveva auspicato una leale collaborazione. Collaborazione che però non c'è stata, aggiunge il sindaco con rammarico, anche per le condotte tutt'altro che condivisibili del direttore generale del MIBACT. Dalle Magistris è stato espresso l'auspicio che la fase di ostacolo messa all'azione della nostra città sia conclusa. Una fase ha evidenziato che ultimamente si sta concentrando sulla cultura forse perché si stanno rendendo conto che la vera arma di riscatto di Napoli è la cultura e questo, a suo giudizio, potrebbe dare fastidio a qualche pensatore da salotto. Noi, ha concluso il sindaco, non consentiremo a nessuno, soprattutto da fuori, di mettere le mani sulla città con atteggiamenti che non hanno nulla a che vedere con l'interesse pubblico e generale che noi abbiamo sempre dimostrato di salvaguardare molto meglio di altri che hanno pensato a non darci risorse e a metterci ostacoli. De Magistris candidato lo aspetto a braccia aperte. Così Vincenzo De Luca commenta la possibile corsa alle regionali del sindaco di Napoli. Il governatore accusa poi la gestione amministrativa della città, capoluogo. La regione paga il comune di Napoli, non mette un euro. È solo l'ultima puntata di uno scontro a distanza fatto di botte e risposta, punzecchiature e polemiche quasi quotidiane. Vincenzo De Luca e Luigi De Magistris tornano ad incrociare le lame. Dopo la visita a Salerno, città feudo del governatore e del sindaco di Napoli, non si è fatta attendere la secca replica dell'inquilino di Palazzo Santa Lucia. commentando l'annunciata candidatura di De Magistris alle prossime elezioni europee, De Luca non rinuncia a una feroce ironia. Beh, aspettiamo a braccia aperte tutti quanti. Mi ricordo che si voleva candidata a Presidente del Consiglio, da Europarlamentare, da non so chi. Regà, facciamola finita. Io sono come Murigno da questo punto di vista. Non faccio pubblicità gratuita a nessuno. Va bene, mi devono pagare. Perché io passo le giornate a lavorare. Chi non ha niente da fare la mattina o la sera cerca di farsi pubblicità gratuita litigando con me. Subito dopo però il governatore torna all'attacco e, senza giri di parole, rivendica ancora una volta che la Regione Campania tiene in piedi i servizi a Napoli, mentre il Comune non fa la propria parte. Quando si parla dello Stadio San Paolo e la Regione caccia 20 milioni di euro perché nessuno caccia un euro e qualcuno parla di liti, questo si chiama opportunismo. Punto. Io non litigo con nessuno. Ma l'idea, espressa credo in maniera geniale da Massimo Troisi, che tutti quanti vogliono regalare il televisore alla mamma, ma poi la Regione viene chiamata a cacciare un milione e due, e gli altri tutti insieme a un caccia, a un accidente e niente, è un'idea che ha a che fare con l'opportunismo e con la mancanza di coraggio nel chiamare le cose, per nome e cognome. Un 19enne è stato ferito alle gambe da colpi di pistola a Napoli nella salita a Capodimonte, nei pressi della Porta Grande del Bosco di Capodimonte. Il giovane è ferito, è già noto alle forze dell'ordine, per i reati di rapina. Sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione a Capodimonte, che hanno trovato sul selciato alcuni bossoli di arma semi-automatica. La vittima è stata trasportata al CTO da un passante. Si indaga. Troppi ritardi sulle universiadi, se saltano per Napoli non è un buon segno, lo ha detto il presidente dell'ANAC, Raffaele Cantone, che lancia l'allarme a margine della presentazione del suo libro al suo russola. Bene in casa, sentiamo. Napoli non può permettersi di fare una brutta figura con le universiadi. Io sono ottimista perché Basile ha fatto un buon lavoro. Lo ha detto il presidente dell'ANAC, Raffaele Cantone, a margine della presentazione del suo libro Corruzione e anticorruzione, dieci lezioni, all'università a suo russola, bene in casa di Napoli. Io mi auguro che per il ruolo sia positivamente svolto. Noi abbiamo verificato che certamente da quando c'è il commissario Basile c'è stata un'inversione dal punto di vista della corsa che davvero si sta facendo. È inutile dire che, visto da come si era partiti, perché fare la solita corsa all'ultimo minuto? Leggevo ieri però commenti preoccupati, per esempio sul mattino, sul fatto che molte attività di contorno non sarebbero state fatte. Io mi auguro che Napoli non faccia una brutta figura, non se lo può permettere. Ma è anche vero che però il balletto dei commissari, scelte fatte non correttamente all'inizio, rischiano di mettere in discussione un lavoro, quello del commissario Basile, che invece io valuto molto positivamente. Però alla fine sarà il risultato. Se le università di si fanno è un buon segno. Se non si dovessero fare poi diventa difficile dire abbiamo fatto bene e male. Speriamo che questo non accada. Cantone ha anche ricordato che sul codice Appalti c'è un dibattito molto surreale. Si attacca il codice dimenticando che non è una scelta del nostro paese ma un'opzione obbligata perché ci sono le direttive comunitarie da rispettare. Io sono favorevole alla semplificazione ma bisogna capire cosa si intende nel decreto. Lo verificheremo. Ieri sera la stesa nel centro storico alle spalle del Duomo. A Napoli nella notte i clan sono tornati a sparare. A San Giuseppe Vesuviano nel mirino un negozio di abbigliamento. Tre colpi sparata con una calibro 9 che hanno sforato la lamiera della Saracinesca. Senza però fortunatamente rompere la vetrina. Gli inquirenti stanno visionando tutte le telecamere della zona. I carabinieri hanno interrogato il proprietario che avrebbe dichiarato di non avere mai ricevuto intimidazioni o minacce a carattere estorsivo. Intanto rispetto alla stesa avvenuta a Napoli duro il commento del consigliere regionale dei Verdi secondo il quale ormai si ritorna ai tempi del Far West e la paura la fa da padrona. Siamo costretti a fare i conti con l'ennesimo atto conclude Borrelli che delinea un clima di guerra in cui vive purtroppo il cuore di Napoli. Li tenevano segregati in baracche chiuse a chiave. Blitz contro l'immigrazione clandestina nei campi della Piana del Sele e della Didia di Salerno. Le accuse vanno dallo sfruttamento alla tratta fino alla riduzione in schiavitù. La banda composta da italiani e marocchini contava anche sulla complicità di un commercialista salernitano. Vediamo il servizio. Braccianti mandati nei campi per una manciata di euro all'ora in alcuni casi non retribuiti e con la costante minaccia di essere denunciati perché irregolari e segregati in povere baracche di fortuna. È l'inferno quotidiano dei lavoratori marocchini impiegati nelle aziende agricole della Piana del Sele gestiti da un'organizzazione criminale italo-marocchina che si avvaleva anche della complicità di un consulente del lavoro salernitano. Il blitz di procure Didia di Salerno ha smantellato un sodalizio al vertice del quale c'era un marocchino che reclutava mano d'opera direttamente nel paese nordafricano facendosi pagare dai disperati in cerca di lavoro tariffe che andavano da 5 a 12 mila euro 400 almeno le posizioni al vaglio degli investigatori 35 le persone indagate 27 delle quale i domiciliari ritenuti responsabili a vario titolo di associazione per delinquere, favoreggiamento e sfruttamento dell'immigrazione clandestina tratta e riduzione schiavitù. Alcuni casi abbiamo riscontrato sulla scorta delle fonti di prova che abbiamo acquisito che i lavoratori venivano anche o alcuni di loro segregati in abitazioni chiusi a chiave durante la notte e li venivano privati dei documenti di identità che gli permettessero di circolare sto parlando del passaporto. È stata un'attività complessa che si avvalsano soltanto di strumenti tecnici ma anche soprattutto di un'attività di analisi delle carte che sono state reperite. Oltre a tenere la persona nelle condizioni proprio minime di vita proprio condizioni minime era stata anche privata dei documenti di riconoscimento. In ogni caso sicuramente è un quadro abbastanza complesso e che ha dimostrato di come anche nella nostra provincia nella Piana del Sele questo fenomeno è comunque presente e ben radicato. Medicinali rubati e arrestato un farmacista all'operazione portata a termine dai carabinieri del NAS e dal nucleo antifrode dell'Agenzia delle Dogane nell'area vesuviana contestati al professionista i reati di frode riciclaggio e ricettazione e servizio. È finito agli arresti domiciliari un farmacista 48enne residente a Napoli gravemente indiziato dei reati di ricettazione e riciclaggio di medicinali frutto di furti e rapine effettuati ai danni di distributori grossisti e vettori. Nel corso del blitz è stato eseguito un sequestro preventivo per 2 milioni e 300 mila euro. La misura cautelare è scattata nel corso della mattinata in seguito a un'articolata indagine della procura di Torre Annunziata. In azione i carabinieri del NAS e il personale dell'Agenzia delle Dogane. L'indagine ha consentito di svelare un sistema capillare mediante il quale venivano messi sul mercato farmaci ospedalieri rubati e ad alto costo con grave danno per il servizio sanitario nazionale. Le indagini sono scattate in seguito alle verifiche seguite da parte della polizia giudiziaria a partire dagli inizi del 2014 presso una farmacia convenzionata con l'ASL Napoli 3 Sud e in un deposito all'ingrosso di specialità medicinali al cui interno sono state rinvenute e sequestrate migliaia di confezioni di farmaci provenienti da alcune rapine effettuate in precedenza nei comuni di Livorno e di Cerignola. Così è stato smantellato un illecito sistema di approvvigionamento di farmaci provenienti dalla commissione di furti e rapine da parte del farmacista colpito dalla misura. Accertata anche una maxi evasione delle imposte sul valore aggiunto mediante la falsa rappresentazione di scritture contabili della società gestita dal farmacista a cui poi si è aggiunta la realizzazione di una serie di truffe all'ASL mediante l'utilizzo di ricette mediche rubate. Interrogato questa mattina nel tribunale di Benevento il vigile urbano accusato di aver costretto l'amante della moglie a posare per foto otte a chiedere soldi per non diffondere le immagini l'uomo si è difeso e ha spiegato la sua versione dei fatti. Non ho ricattato nessuno e non ho ne chiesto ne preso nessuna somma di denaro. Si è difeso così il sottoufficiale della polizia municipale di Piedimonte mattese finito ai domiciliari venerdì scorso con le pesanti accuse di sequestro di persona violenza privata lesione e minacce nei confronti della sua ex moglie di una persona entrambi residenti a Castelvenere in Malle Telesina l'indagato questa mattina a Benevento è comparso dinanzi al giudice ed ha spiegato la sua versione dei fatti contestati alla stregua delle indagini eseguite dagli agenti del commissariato di Teleseterme secondo gli inquirenti il sottoufficiale dopo averli picchiati in un'abitazione del centro telesino avrebbe costretto lei a fotografare l'uomo in pose compromettenti poi si sarebbe fatto consegnare 5.000 euro quindi avrebbe inviato le foto ad alcune persone puntando ad ottenere altri soldi immagini di cui si parla sia nell'ordinanza ma che sia l'indagato sia il suo difensore non hanno ancora potuto visionare l'indagato ha sostenuto di aver seguito la coniuge su cui nutriva evidentemente dei sospetti e di averla scoperta con l'amante in quella casa a Castelvenere una scena alla quale avrebbe reagito in malo modo tentando senza riuscirvi di ritrarla insieme nuovo sciopero dei tassisti a Napoli che protestano contro l'ingresso delle multinazionali l'antitrust dovrebbe intervenire dicono perché queste manovre di acquisto non sono legali se entro il 22 marzo non ci sarà l'incontro con il ministro sarà sciopero nazionale i tassisti sono fermi nel dire no all'ingresso del mercato delle multinazionali il presidio stamani si è fatto sentire a piazza plebiscito come nelle altre piazze d'Italia presenti i delegati delle sigle sindacali di categoria la protesta è contro la riforma del settore i tassisti rilanciano se entro il 22 marzo non ci sarà l'incontro chiesto al ministero dei trasporti per definire l'avvertenza sarà indetto lo sciopero nazionale alla fine già siamo stati diciamo penalizzati questo allargamento degli NCC invece di rientrare in rimessa è stato allargato alla provincia gli NCC potranno sfruttare i contratti che hanno fatto in essere prima di gennaio e quindi hanno avuto una proroga di due anni quindi praticamente non è cambiato assolutamente niente il concetto è anche un altro è molto semplice io non posso tollerare che avvenne una multinazionale mi vende un lavoro che già è mio senza la torta quella è e io gli devo dare una percentuale sul lavoro che già è mio perché praticamente è dotato di un'applicazione super tecnologica noi non siamo contro la tecnologia noi siamo chi la usa in un certo modo l'antitrust dovrebbe intervenire tranquillamente cosa che non va e questa è un'altra cosa che noi ci stiamo ancora domandando antitrust a dove stai ed assisti continua a subire come stiamo subendo con gli NCC e tutta una serie di situazioni pronte ad essere evacuate mille persone a rischio anche la chiusura dell'ospedale dopo il ritrovamento a Battipaie nel Salernitano in un appezzamento di terreno di una bomba risalente la seconda guerra mondiale nei prossimi giorni organizzate le operazioni ci vorrà almeno un mese prima del disinnesco vediamo il servizio migliaia di persone da evacuare forse anche l'ospedale blocchi al traffico stradale e ai collegamenti ferroviari queste le previsioni dopo il ritrovamento nei giorni scorsi nel Salernitano in un appezzamento di terreno a Spineta a Battipaia di un ordigno bellico risalente alla seconda guerra mondiale la bomba aerea di fabbricazione inglese del peso di 115 kg dovrà essere disinnescata ma non passerà meno di un mese prima delle operazioni intanto nei prossimi giorni ci sarà un nuovo sopralluogo da parte dell'esercito nel punto in cui è stata ritrovata la bomba in prefettura a Salerno il secondo tavolo per decidere la data di disinnesco forze dell'ordine esercito e i tecnici del comune di Battipaia dovranno approntare il piano di evacuazione dell'area che sarà completamente interdetta sino a un chilometro e mezzo di distanza dall'ordigno toccherà poi al sindaco di Battipaia Cecilia Francese emettere un'apposita ordinanza di sgombero delle abitazioni negozi strade e aziende che ricadono nella zona di interdizione molto probabilmente sarà necessario anche bloccare il traffico lungo l'autostrada 2 chiudendo l'uscita di Battipaia e la statale 18 nel tratto più vicino al luogo del ritrovamento andiamo ad Avellino centro autismo lavori indirittura ad arrivo questa mattina un nuovo sopralluogo a valle con ASL comune e tecnici di lavori entro maggio la ditta consegnerà il cantiere ma resta il nudo della gestione la manager Morgante dice contiamo su un operatore economico esterno vediamo centro autismo sempre più vicino alla riapertura questa mattina un nuovo sopralluogo con ASL comune e tecnici dei lavori la consegna degli interventi è fissata entro maggio ma da allora in poi si provvederà a rendere attivo il centro di valle con una novità è nella volontà dell'azienda di eventualmente spostare il centro di neuropsichiatria infantile in questa struttura naturalmente sono delle valutazioni che farò insieme al commissario vedremo in che termini ci vorrà trasferire la struttura e naturalmente parliamo di programmazione non è che nel breve termine noi riusciamo a fare tutto però iniziamo a lavorarci e a fare in modo che questa struttura venga utilizzata al meglio è in mente dell'azienda come avete già avuto modo di vedere che di affidare a un operatore economico esterno la gestione di questo servizio quindi le associazioni delle famiglie contribuiranno abbiamo istituito un tavolo tecnico dove andremo a lavorare su quelli che sono i percorsi e le linee guide da utilizzare per una migliore gestione di questo settore a rassicurare sui tempi dei lavori è il direttore tecnico Pellegrino Fiore stiamo quasi alla fine perché le operazioni da ultimare sono poche sono quelle dell'esterno diciamo della sistemazione esterna binder quindi bitume e recinzione fondamentalmente e poi abbiamo la tinteggiatura esterna ed interna il tempo in sé per fare queste lavorazioni un mesetto potrebbe anche bastare imprenditrici da tutto il mondo a Benevento per una tre giorni dedicati all'imprenditoria femminile a inaugurare la convention Luisa Todini presidente del comitato Leonardo che promuove il made in Italy nel mondo sentiamo le imprenditrici italiane a convegno a Benevento ha preso il via Women in Business conferenza internazionale dedicata ai progetti di imprenditorialità femminile una tre giorni promossa dallo spin off accademico dell'unisagno Kinetess un network che quest'anno presenta anche diverse novità Expo Donna Benevento 2019 avremo imprenditrici Sannite Irpine Toscane avremo le croate avremo rappresentanze dall'Estonia dal Belgio una fucina per i talenti imprenditoriali delle donne per il sindaco Clemente Mastella che ha accolto la protagonista della prima giornata l'imprenditrice Luisa Todini presidente del comitato Leonardo che lavora per le eccellenze italiane nel mondo quest'anno scade la legge del Golfo Mosca ricordiamolo quello che dal 6% di presenze femminili nei consigli di amministrazione ha portato ad oltre il 33% ci auguriamo che tutto il Parlamento e le istituzioni possano reiterare questa legge importante che sta a significare quanto le donne abbiano competenze capacità di fare quanto le donne presenti nei CDA e che gestiscano le aziende possano e sappiano generare maggior profitto Luisa Todini ha puntato ai riflettori sul riconoscimento ottenuto come sagno a città europea del vino un bel riconoscimento come città del vino e come area sicuramente di eccellenza vitivinicola deve essere un punto di partenza l'Italia è grande ma piccola rispetto al resto del mondo dobbiamo lavorare come sistema dolore e lacrime e tanta commozione a Gesualdo in Irpinia nel giorno dell'addio a Michele ed Adamo il 49 è morto in seguito a una violenta esplosione del suo deposito di fuochi Gianni Vigoroso un personaggio molto conosciuto al di là della tragedia che ha scorsa un po' tutta l'Irpinia e siamo tutti qui a onorare il cammino verso il cielo artisti comitati feste associazioni sindaci ed amministratori del territorio gente comune un fiume umano da piazza Umberto I alla chiesa di San Nicola palloncini bianchi lacrime e immenso dolore e la grande attestazione di affetto e vicinanza ai familiari di Michele e Adamo il 49enne fuochista di Gesualdo morto tragicamente a causa della violenta esplosione avvenuta il pomeriggio di giovedì 14 marzo un lungo e commovente applauso saluta il feretro all'uscita dalla chiesa abbiamo 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 vissuto un momento di preghiera molto forte con adorazione eucaristica siamo vicino a loro e continueremo ad esserlo soprattutto per i giorni che seguiranno che non saranno facili ma con l'aiuto e come dire l'affetto di tutti noi siamo certi che avranno il coraggio e la forza di continuare la loro vita di tutti i giorni i suoi figli sono stati allunni della nostra scuola mi sembra giusto e doveroso portare una parola a un gesto di solidarietà è una morte prematura improvvisa tragica che è stato scalpore e dispiacere in tutto il circondario di un uomo dedito al lavoro a seguito di una fatalità che sicuramente merita la nostra solidarietà e tutta la nostra comprensione saremo vicini alla famiglia cercando di alleviare quelle che sono delle sofferenze molto intuibili In occasione della giornata del fiocchetto Lilla istituita per sensibilizzare sui disturbi alimentare l'assessorato alle politiche sociali ha promosso il convegno anoressia e bulimia sentiamo I disturbi del comportamento alimentare rappresentano una delle maggiori emergenze sanitarie del nostro tempo è per questo che l'assessorato alle politiche sociali del comune di Napoli ha promosso il convegno anoressia bulimia binge eating diagnosi psichiatrico o problema culturale in occasione della giornata del fiocchetto Lilla istituita per sensibilizzare sui disturbi del comportamento alimentare Il problema vero oggi non è tanto che se ne parla poco come avveniva fino a una decina di anni fa ma che se ne parla purtroppo a sproposito spesso la disinformazione i luoghi comuni stanno prendendo il sopravvento e riteniamo sia indispensabile poter in qualche modo mettere professionisti sia del settore pubblico che del privato che del privato convenzionato a ragionare su cosa siano questi disagi e su quali sono le modalità di intervento più efficaci Obiettivo del convegno è porre l'attenzione sui sintomi sui comportamenti sulle modalità attraverso le quali si manifestano i disordini alimentari e sui rischi per la salute che derivano da questi disturbi in collaborazione con una rete di esperti e professionisti del settore Cominciare a parlarne dando il giusto peso anche a una tematica che purtroppo riguarda molti molti giovani molti adolescenti di cui trovo che si parli a volte forse con un po' di leggerezza quindi da un lato acquisire strumenti approfondire conoscere e dall'altro sensibilizzare per dare davvero il peso fondamentale il peso giusto a problematiche che purtroppo sono quotidianamente nelle nostre vite collaborare per essere più forti questa la sfida culturale supportata dalla regione Campania si rinnova l'iniziativa una vallata 16 comuni 22 musei in rete con l'adesione di altre 4 importanti realtà del territorio sentiamo si rinnova un anno dalla firma del protocollo d'intesa rete dei musei del Vallo di Diano l'iniziativa supportata dall'assessorato al turismo della regione Campania una vallata 16 comuni 22 musei in rete tanti eventi e l'adesione alla rete di altri 4 musei si tratta del MAS il museo archeologico di Sala Consilina del museo archeologico provinciale della Lucania occidentale di Padula e del museo del liquore Arturo Penna e della valle delle orchidee di Sassano l'unione che può fare la forza come spiega l'assessore al turismo della regione Campania il Vallo di Diano si presenta nella sua interezza sull'offerta culturale questa è la strada giusta può diventare una grande destinazione turistica anche nella diversificazione questo è quello che noi stiamo facendo il progetto la rete dei musei va nella giusta direzione le divisioni non portano da nessuna parte io sono convinto che il Vallo di Diano ha tante potenzialità noi siamo partiti sui beni culturali ma tenga presente che noi possiamo anche nella diversificazione parlare di turismo religioso già abbiamo messo in campo un'azione che è quella dei cammini dell'anima stiamo lavorando anche sul centro sportivo quest'anno è l'anno delle universiadi stiamo provando a collegarci anche a quel momento che sicuramente è importante ma anche naturalistico e enogastronomico questo territorio insieme al Cilento è il territorio della dieta mediterranea è tutto con il nostro Tg grazie di averci seguito la linea Valtigi Sport Grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti.